Sono stato io, Franco. Ho sborrato io sulla tua bella rivista. Perché? Perché quando mi faccio una sega, alla fine di solito sborro. Immagino che succeda lo stesso anche a te. Che bella risposta! Perché non lo punti da un'altra parte, eh? Ho un'eiaculazione particolarmente esplosiva. Va dappertutto. È tipo la manichetta impazzita dei pompieri. Devi bloccarlo e pregare che non ti becchi negli occhi o in bocca. Ma che cazzo di modo di farsi sega è questo? Non hai mai avuto fratelli? Non hai imparato a venire in un calzino o in un fazzoletto di carta? No, non ho nessun fratello. Sono cresciuto in una casa di donne. Ho qualche difficoltà a credere che ti abbiano insegnato a chiudere gli occhi e a venire dove ti pare. Ma perché te la prendi tanto per una cazzo di rivista porno? Chi compro più le riviste porno al giorno d'oggi? Non puoi venire sulla mia roba! Verrò dove cazzo mi pare? Verrò su queste cazzo di pareti. Verrò su questi cazzo di armali. Su questi cazzo di mobili. Verrò dappertutto. Anche sulla tua cazzo di arti. Io vengo dove mi pare, capito? Va bene, allora io vengo su di te. Vengo come un pazzo su di te. Ti ricopro, McBride. Voglio proprio vederti che vieni su di me. Avanti, ti sfido a venire su di me. Adesso! Andate a far culo! Danny, no! Non andartene, Danny! Non mollarmi qua da solo! È troppo tardi, Seth! Me ne sono già andato! Ti ho mollato! No, non è vero! Sei ancora in tempo per voltarti e tornare indietro ad aiutarmi!